Edison dovrà pagare anche per le aree non incluse nel progetto Goio. Sebbene sia ancora in atto il ricorso in cassazione del colosso energetico riguardo le responsabilità dell'inquinamento, il progetto di bonifica dovrà integrare anche le aree oltre le discariche 2A e 2B, ovvero quelle non inserite nel progetto del commissario Goio del 2015. E questa la novità, confermata dal sindaco Lagatta, che è emersa dalla riunione di venerdì scorso tra Ministero, Regione, Comune e Arta, in cui si è deciso per un cronoprogramma che deve essere ancora messo a punto. Contro l'integrazione di quelle aree nel progetto di bonifica vi è però il ricorso di Edison, presentato al Tardabruzzo a fine maggio scorso. C'era stata una sorta di polemica nata all'interno di alcuni partiti che in qualche modo sposavano la vecchia posizione del Ministero e dicevano va bene, sì, però c'è solo il progetto per le 2A e 2B, delle altre aree che cosa succede? Oggi è stato chiarito che anche queste sono a carico di Edison. La sentenza del Consiglio di Stato di circa 20 giorni fa ha dato torto al Ministero dell'Ambiente sull'annullamento della gara per la bonifica. Quindi i lavori saranno effettuati dalla ditta belga che si era giudicata all'appalto nel 2018, la DECDEME, secondo un progetto che prevede la rimozione totale dei rifiuti tossici. Ora sotto il capping, il telo protettivo che Edison ha terminato di posizionare quasi 14 anni dopo la scoperta delle discariche. Si scongiure il rischio d'ombamento che era l'obiettivo di Edison. La fretta che ha messo Edison nel realizzare il capping era... Oddio, non ha illuso nessuno. Come si dice, l'obiettivo era chiaro. In questo modo, in sicurezza, e qua finisce il lavoro di Edison. Il Consiglio di Stato ha rigettato quest'idea, che non era solo di Edison, purtroppo bisogna dirlo, e adesso quel capping deve essere tolto e devono cominciare a togliere i rifiuti. A Bussi, sulla DECDEME, la bonifica consiste principalmente nel togliere i rifiuti e portarli nelle discariche autorizzate. E mentre i report dell'Arta attestano che gli inquinanti continuano a contaminare acqua, suolo e aria nei pressi del fiume Tirino, manca ancora uno step per procedere alla bonifica. La DECDEME deve presentare, tar permettendo, un progetto che integri nei lavori anche la bonifica di quelle aree escluse da Goio. Progetto che dovrà essere approvato dalla Conferenza dei Servizi. Poi, se i procedimenti giudiziari dovessero confermare le sentenze precedenti, Edison dovrà risarcire la bonifica in base al principio che inquina paga.